Sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, sono un po' deluso per non aver trovato il gol, però siamo contenti, abbiamo fatto una bella partita contro una buona squadra e siamo soddisfatti. Io per primo speravo di trovare il gol, come ho detto, perché ne ho bisogno, sono giovane e voglio fare qualcosa di importante. Per il resto faccio complimenti a tutti i miei compagni, al mister, è una grande annata, speriamo di coronarla nel migliore dei modi domenica contro il San Marino e siamo tutti contenti. Il mister, da quello che ho capito, ha detto che hai iniziato a giocare con una certa frequenza dal momento in cui è arrivato lui. Qual è il problema, forse, d'adattamento in una categoria così difficile, perché tutto sommato, Mantua, Lecco, società comunque importanti, Renate e Borgo Bugiano, paesi piccoli, senza tradizione, è più che altro forse un problema di mentalità, più che magari di fisico. Sì, sì, probabilmente sì, non lo so, comunque l'allenatore che c'era prima, Colonnello, non mi aveva dato molte possibilità, io penso di essere stato pronto sin dalla prima partita, però non mi vedeva, non ero tra quelli che preferiva e ho dovuto lottare per guadagnarmi un posto. Ce l'ho fatta anche sempre quando c'era Colonnello, ho fatto vedere delle buone cose, mi sono sempre impegnato al 100% e poi con l'arrivo di Piricano, come ha detto anche il mister, ha trovato più continuità, mi ha dato più importanza nella squadra e per un giocatore sentirsi importante per la squadra e sentire la fiducia sia del mister che del gruppo è la cosa più importante. Quindi il rendimento è stato migliore da quel punto di vista.